Sono 162 i pazienti positivi in tutta la provincia, cala la curva dei contagi, 56 sono a Gela, 43 sono a Caltanissetta. Per ciò che riguarda nel complesso i ricoveri in ospedale sono 45, i positivi ricoverati in malattie effettive sono 4 i positivi ricoverati in terapia intensiva, 2.748 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. Per ciò che riguarda il capoluogo 599 i positivi in quarantena domiciliare, 17 i positivi in malattie effettive, 3 i positivi ricoverati in terapia intensiva. Nisseni è un ricoverato paziente proveniente da fuori provincia. Ci sono anche dei cittadini della provincia di Caltanissetta ricoverati in altri presidi ospedalieri e sono 2 di Caltanissetta e 1 di Gela.